Bella sta scena eh Pieri? Bella, bella, bellissima, aia, 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 maledizione, che c'è, che succede? Oggi a pranzo ho mangiato i fagioli, ma la pancia la pancia, ed è il che cabinetto? Che cabinetto? E' aria? Ah, aria. Eh beh, non puoi trattenere. Che devi trattenere, Piero? Eh, 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 aspetta, eh, l'ho visto sto film, ma a un certo punto sta la sparatoria, capito? Ti do un cenno e vai, capito? Ok, ok. Però aspetta, aspetta, aspetta. Mi hanno da posto? A posto. Bella questa trascetta. Aia, di nuovo? Di nuovo? Mamma mia, sto sudando freddo. Mamma mia, no, aia, 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 aspetta, 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 lo conosco questo film, ma fra poco deraglia il treno, cade giù, succede l'esplosione, capito? mo ti do io il cenno. Ok. La roba piacere, aspetta, eh, aspetta, 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 aspetta. Mori, vai, vai, vai. A posto. Mi sento bello? Che c'è così? Che mangiate? Fagioli. 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 Fagioli a te. Scusami, mi sono come distratto, diciamo, stavo là. L'ultima scena, che cosa è successo? Il treno è saltato in aria. Il treno? Sì, il treno. È saltato in aria. È deragliato. Ah, è deragliato? Sì. Scusami, l'ultimo vagone era pieno di merda. Sì, l'ultimo vagone era pieno di merda. Sì, sì. Grazie.